Whatsapp non funziona. Dalle 22.30 del 3 maggio 2017 Whatsapp ha smesso di funzionare. Ecco il perché. Whatsapp non permette di mandare messaggi. Infatti i vostri messaggi risulteranno così. Tutto questo perché i server Whatsapp sono in manutenzione e dovranno ritornare attivi verso mezzanotte. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Qui è tutto da Oh Guarda un Video.